Ciao a tutti, i semi di anguria sono un superfood ricco di antiossidanti, di vitamine e di proteine. Allora, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, molte persone trovano fastidio quando prendono un'anguria nei semini, quei semini neri che si trovano. In realtà, questi semi di anguria si possono mangiare e fanno pure bene. Ovviamente, diciamo, bisogna ingurgitarli insieme all'anguria e possono essere anche masticati, non sono neanche molto duri. Fanno molto bene, sono ricchi di fibre e antiossidanti. Per non parlare delle proteine, ad esempio, un etto di piccoli semi di anguria ha circa 30 grammi di proteine, molto di più della carne, che ne ha 20 grammi. E addirittura possono ridurre l'impatto glicemico, diciamo, del frutto e mangiarne magari appunto un po' di più. Inoltre, i semi di anguria sono ricchi di grazi polinsaturi, utili per tenere a bada il colesterolo, il rischio cardiovascolare e l'iperattivazione del sistema immunitario. Ad esempio, quindi, potrebbero tornare utili anche per allergie, asma e cose del genere. Poi sono ricchi di vitamine e sali minerali. I semi di angurie sono pieni di vitamine del gruppo B, che fanno bene al fegato, e poi hanno zinco, magnesio, manganese, fosforo, potassio e rami. Quindi, tutta una serie di sali minerali. Hanno ferro e questo è facilmente assorbito, se i semini ovviamente vengono mangiati insieme all'anguria, alla polpa, che è ricca di vitamina C, che consentirà una rapida assimilazione proprio del ferro. Insomma, questi semi di anguria sono buoni, vanno mangiati e come? Alcuni può dare fastidio, ovviamente, alla presenza di questi semini, però, diciamo, tenete presente che potrebbero essere, chi non volesse mangiarli così, farli essiccare e poi sgranocchiarli, come tutti gli altri semi, oppure cercare un estratto di semi di anguria, ad esempio. Se ne possono trovare. Comunque, la cosa più semplice è mangiarsi i semi con l'anguria. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. Iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.